io mi sono preparato dei consigli riguardanti le robe messe in sconto quindi Marvel, Disney, DC e Panini Comics vi andrò a consigliare questo allora iniziamo con la Marvel allora, primo consiglio ragazzi, un consiglio che già ho fatto diverse volte è l'unico omnibus presente per la Marvel, quindi non rompete la minchia, è l'unico e dato che molti sono rimasti insoddisfatti dalla visione della serie televisiva su Shulk vi consiglio caldamente di recuperare l'omnibus di Shulk la prima vera serie, vera nel senso anche qualitativo perché le precedenti esperienze diciamo che non erano granché di Shulk scritta e disegnata da John Byrne ragazzi, questa è la serie, secondo me non solo la serie migliore di Shulk, punto ma è una delle migliori dieci run della Marvel e questa è House of X, Power of X di Jonathan Hickman scritto a Jonathan Hickman allora ragazzi, questo come consiglio, anche questo è un consiglio che ho fatto diverse volte è uno dei migliori starting point se volete iniziare ad approcciarvi quindi non soltanto ai mutanti ma anche al fumetto secondo me supereroistico perché è moderno come stile visivo e come narrazione è soddisfacente nella lettura perché già anche soltanto quest'unico volume anche se poi potete proseguire acquistando Pax Cracoa che è il seguito sempre di Jonathan Hickman il seguito diciamo perché questa è una miniserie mentre quella è proprio la serie di X-Men è soddisfacente perché durante tutta la lettura e a conclusione della lettura voi vi sentite appagati Omega lo sconosciuto l'edizione ragazzi è un'edizione molto grande per questo costa un pochino e considerate come formato quello leggermente più piccolo dei grandi tesori è alla stessa altezza di un Absolute è un centimetro più largo di un Absolute allora a livello di formato per quanto riguarda l'opera allora Omega lo sconosciuto è una riproposizione di un personaggio Marvel appunto degli anni 70 che era Omega di cui l'autore Lethem Jonathan Lethem si appassionò tant'è che lo influenzò per alcune sue opere tra cui anche la Fortezza e la Solitudine è che decise agli inizi degli anni 2000 di riproporre in chiave moderna quindi il fumetto è una sorta di lavoro come quello che fece se volete il buon Moore su Miracle Man però applicato appunto a questo personaggio Omega in cui si vede sia tantissima voglia di destrutturare un personaggio per analizzarlo come non veniva fatto in passato ma anche una sorta di lettera d'amore verso proprio quel personaggio lì che comunque era un personaggio molto atipico per l'epoca per gli anni 70 che ha influenzato molto lo stesso autore che quindi poi ha deciso di rendere gli omaggio con quest'opera qui che poi è la cosa figa molto figa di quest'opera che pur essendo un fumetto sì supereroistico perché alla fine è questo è disegnato a uno stile visivo che ricorda moltissimo il fumetto indipendente underground americano quindi c'è anche questo contrasto tra ciò che viene narrato la storia il personaggio che viene narrato e il modo in cui viene rappresentato quindi molto molto bello da leggere soprattutto da leggere per leggere magari qualcosa di diverso Silver Surfer Alba Nuova allora ho pensato pensavo cosa consigliare di Silver Surfer se consigliare Silver Surfer Nero Silver Surfer Requiem Parabola il ciclo di Buscema alla fine ho detto ma sai cosa perché non consigliare Silver Surfer di Mike Horrad che è questo appunto Silver Surfer che è stato raccolto in volume a un paio di anni fa che è un'opera una run di Silver Surfer molto poco ricordata che però secondo me soprattutto per merito dei disegni di Mike Horrad funziona benissimo perché? perché è una space opera quindi quella è una space opera ma con fortissime tinte psichedeliche date proprio dallo stile molto fuori dagli schemi di Mike Horrad e ovviamente poi lo stesso Dan Slott diciamo che si adegua anche a questa questo stile molto esagerato di Dan Slott di Mike Horrad proponendo situazioni esseri diciamo una sorta di scenografia molto in linea con quello stile molto psichedelico che però anche in alcune in alcune sezioni mostra un chiarissimo omaggio a Kirby soprattutto nelle nelle sezioni più esplosive più galattiche chiarissimo è l'omaggio al buon Kirby al re quindi se magari avete già letto altro di Silver Surfer e non sapete cos'altro recuperare del personaggio o anche se volete approcciarvi al personaggio questo secondo me ci sta tantissimo Spider-Man 2099 di Peter David l'universo 2099 è stato uno dei primi tentativi della Marvel di variare di come possiamo dire di allargare l'universo narrativo a cui i lettori si stavano abituando ovvero vedere per 30 anni Spider-Man sempre nelle stesse situazioni sempre con gli stessi nemici sempre con lo stesso anche carattere stava un pochino stancando i lettori allora cosa hanno deciso facciamo questa nuova linea futuristica chiamata appunto 2099 in cui possiamo esplorare altri aspetti dei personaggi mantenendo sempre diciamo delle linee guida però variando un pochino quindi non è più Peter Parker Spider-Man ma Miguel O'Hara diventa Spider-Man nel 2099 quindi anche in un mondo futuristico tra l'altro negli anni 90 il cyberpunk andava fortissimo quindi immaginate quanto la gente si sia segata su sta roba e ovviamente quello più riuscito di tutta questa collana è Spider-Man ovviamente grazie anche all'incredibile lavoro di Peter David che in quel periodo era uno degli autori più più acclamati della Marvel perché stava per chiudere il suo ciclo su no si era quasi alla fine del suo ciclo su Hulk che era stato uno e diventato il ciclo più importante più bello sul personaggio e quindi la Marvel chiaramente gli ha dato un altro personaggio abbastanza importante per il suo universo che è Spider-Man chiaramente in questa nuova veste e quindi per chiudere se vi piace Spider-Man però volete leggere uno Spider-Man diverso dal classico Peter Parker se vi piacciono le storie dove la fantascienza è più improntata sul futurismo che su altro e con una giusta dose anche di cyberpunk questo assolutamente consigliato visione di Tom King e di di Valta e disegni allora ragazzi c'è poco da dire probabilmente uno dei migliori una delle migliori opere targate Marvel degli anni 10 tant'è che credo anche di averli inserito quando ho fatto i fumetti del decennio o forse no forse l'avevo messo l'avevo messo in dubbio con Mr. Miracle non mi ricordo comunque ragazzi è una storia che si ha come protagonisti dei supereroi ma che in realtà è una storia che parla anche senza nascondersi è un fumetto che si ha come protagonisti dei supereroi ma in realtà gli elementi supereroistici sono ben pochi ci sono più elementi fantascientifici perché si parla di visione che è un android che si costruisce la sua famiglia quindi anche il desiderio molto quindi anche qui c'è una critica di Tom King al sogno americano è perché visione si crea la sua famiglia si crea proprio si crea la sua famiglia di android di moglie due figli e cane Arma X ragazzi è la prima storia che va a attenzionare il passato di Wolverine perché in realtà Wolverine da quando è stato presentato negli anni settanta fino a quel momento era circondato molto dal mistero cioè non si sapeva quanto era vecchio non si sapeva come era diventato con l'Adamanti e tutto diciamo che era stato tintato molte volte che aveva un passato un pochino oscuro ma non si era mai visto che tipo di passato aveva avuto ho cercato ho cercato di di limitarmi con Alamur ho cercato di limitarmi con Alamur ma non consigliare Miracleman sarebbe stato un insulto alla vostra intelligenza alla mia persona e all'arte in generale Miracleman ragazzi è come ho detto più volte il fumetto più importante il fumetto superioristico più importante della storia anche più di Watchmen perché Watchmen diciamo che ha fatto anche secondo Moore Watchmen ha fatto più del male che del bene al fumetto e Miracleman invece è stato suo primo approccio a un certo tipo di analisi ma anche lavoro sul fumetto supereroistico perché ha preso un personaggio che aveva una storia editoriale che andava indietro fino agli anni 40 perché è iniziato tutto con Capitan Marvel che poi è diventato Marvelman e successivamente Miracleman in Inghilterra lui l'ha ripreso l'ha destrutturato ha analizzato ogni sfaccettatura del personaggio e l'ha ricostruito in un personaggio che non soltanto era diverso da quello iniziale pur mantenendone gli aspetti cardine ma anche moderno contemporaneo come nient'altro a quei tempi come nient'altro a quei tempi quindi che dire se volete un attimino leggere un capolavoro del fumetto Miracleman ragazzi sono 4 volumi i primi 3 scritti d'amore l'ultimo scritto da Neil Gaiman tra l'altro dovrebbe continuare si spera a quanto prima dato che la Marvel ha deciso di ristampare tutto il prodotto quest'anno quindi speriamo bene altro volume altra corsa anche questo ragazzi nel formato grandi tesori Marvel e perché ora spiego anche il motivo perché ragazzi questa è una delle pochissime storie valide forse l'unica storia valida di Dinamore ovvero Abyss scritta da Peter Milligan e disegnata da Esad Ribic allora la storia è una storia con forti tinte horror per quanto magari possa non sembrare ma in realtà sì proprio perché il setting permette un certo tipo di narrazione ma anche perché Milligan viene da un passato fortemente horror sia per i suoi lavori in Inghilterra ma anche poi per i suoi lavori alla Vertigo quindi mette molte atmosfere horror all'interno della sua storia ma ragazzi non mi nascondo cioè io ve lo consiglio perché qui veramente sembra di leggere un un Moebius un Moebius che si è appena finito di vedere un film di Lynch perché Esad Ribic fa un lavoro sia con la caratterizzazione degli ambienti ma anche dei personaggi ma anche un lavoro di setting incredibile davvero incredibile ogni ogni vignetta qui trasmette qualcosa trasmette angoscia trasmette paura trasmette anche un certo tipo di pathos in determinate sezioni dell'opera quindi è un è un piacere per gli occhi ecco ragazzi è davvero un piacere per gli occhi per questo è il formato grosso quindi che permette anche di di rendere molto bene il le tavole di Ribic quindi dato che l'hanno ristampato di recenti in questo formato e come ultimo questo secondo me pochi se lo aspettano come consiglio come ultimo consiglio Marvel ragazzi Cage di Tartakovsky che è l'autore di Samurai Jack di il laboratorio di Dexter comunque di tanti prodotti degli anni 90 di Cartoon Network e gli hanno dato gli hanno Primal anche esatto più recente ciao Sir Mike gli hanno dato a metà anni 10 gli hanno dato una mini serie in gestione alla Marvel su Johnny Cage e ha tirato fuori una storia molto easy la storia ragazzi non vi aspettate niente di che ma ha tirato fuori un fumetto talmente pop ma nel senso proprio positivo il più positivo che potete dare del termine che è meraviglioso ragazzi meraviglioso ci sono alcune scelte alcune scelte grafiche che veramente le vedi e sembra non so quanti di voi li vedevano da piccini i i vari Samurai Jack il laboratorio di Dexter e quant'altro ma sembra di vedere proprio di provare quella gioia fanciullesca nel vedere certe soluzioni grafiche che non ti aspetteresti mai di vedere ecco quelle erano applicate a dei prodotti di animazione qui li applica a un prodotto invece diverso fumettistico ma che comunque riesce a essere bello impattante quindi se volete una storia che vi sorprenda per appunto le soluzioni visive intraprese al suo interno leggete Cage ripeto non vi aspettate una storia incredibile perché non lo è anzi certe volte è anche un po' banalotta però ve ne dimenticate vi assicuro che ve ne dimenticate andiamo ora alla DC Comics DC ragazzi iniziamo subito con l'unico omnibus che vi consiglio e qua è stato difficile da scegliere però ho pensato anche cose che posso consigliare che magari pochi si cacano che magari io stesso non ho consigliato spessissimo Gotham Central Gotham Central ragazzi allora questo è uno dei migliori prodotti della DC in generale perché non solo è scritto da due maestri del fumetto che sono Ed Brubaker e Greg Rucca ma fa anche qualcosa che non ti aspetteresti da un fumetto della DC soprattutto in un fumetto ambientato a Gotham non parla di Batman con i suoi problemi i suoi cazzi i suoi mazzi di cui già abbiamo visto tutto ormai veramente difficile veramente un po' come Daredevil è difficile dare qualcosa in più a quel personaggio ma il fulcro della storia è proprio la centrale di polizia di Gotham e molto più crime rispetto alla classica storia di Batman che invece magari anche per necessità certe volte va sulla fantascienza sull'action qui invece proprio crime allo stato puro andiamo avanti ragazzi io ho cercato di mettere poche cose di Alan Moore però capitevi benissimo è impossibile impossibile ha fatto troppe cose belle quel bastardo questo di questo gradirei gradirei un messaggio di sesso di questo gradirei un messaggio di sesso che servirà a sintetizzare il mio pensiero se sesso per favore lo può scrivere per miglior la migliore edizione rapporto qualità prezzo adesso ancora più scontata perfetto sesso perfetto perché ragazzi già prima prima degli sconti era la migliore edizione pubblicata in Italia di un fumetto qualsiasi per rapporto qualità prezzo perché per 50 euro vi portavate a casa uno slip case con un fumetto in tessuto ricamato con le incisioni in oro illustrazioni meravigliose che si apriva anche di 270 gradi senza rompersi quindi meraviglioso in più scontato del 20% ragazzi a 40 euro vi portate a casa non solo un'edizione clamorosa ma uno dei fumetti più belli della storia del medium tra l'altro il terzo volume sta per uscire quindi potrete anche completarlo a breve perché sono solo tre volumi la gestione di Alan Moore e basta ragazzi ve ne ho parlato anche troppo di Swamp Thing poi la gente si gira i girano i coglioni alla gente vi dico soltanto ragazzi che è una probabilmente delle migliori 5 storie della DC Comics parlando di run e non di storie autoconclusive cioè comunque di serie limitate quindi sto parlando di run davanti qui ragazzi invece ci spostiamo lasciamo un attimino da parte i supereroi per spostarci verso il collane più particolari della DC Comics in questo caso abbiamo ora Black Label prima vertigo ovvero dei tripper dei tripper di oh Dio Gabrielle Bar e oh Dio come chi era l'altro che ho santi i nomi Fabio Moon allora dei tripper ragazzi anche questa è un'edizione Absolute mi potete portare un Absolute a casa con 30 euro ragazzi quindi tripper Absolute la storia di dei tripper ragazzi anche qui ne ho parlato diverse volte è una una storia è un volume un'opera si episodica per qua perché diciamo ci sono 10 storie all'interno del volume ma non per questo la narrazione ne risulta frammentata anzi la narrazione è sempre sempre un ottimo pace nonostante appunto le storie abbiano un inizio o una fine già all'interno dell'opera ci siano appunto queste 10 storie chiamiamole così che hanno un un loro arco vitale un loro ciclo vitale però diciamo la gimmick con la quale i due autori riescono a gestire questa cosa è molto furba magari non ve la dico se non la volete spoilerata però è un affresco meraviglioso sulla vita umana su quello che può essere la vita di una persona e su cosa può veramente influenzare la vita di una persona ragazzi flinch è un antologico della vertigo durato un anno solo per la vertigo quindi quanti sono 16 numeri mi pare contenuti in questo omnibus e sono storie horror sono storie horror all'interno di questo volume ragazzi voi troverete tantissime variazioni sul genere horror che può essere horror quello più fantascientifico l'horror più body horror di qualsiasi tipo di qualsiasi tipo scritte dai migliori autori dell'epoca perché trovate le storie scritte da Bianchi Vogan da Gartennis e poi c'è anche una disegnata da Frank Whitesley il disegnatore di All Star Superman insomma all'interno trovate il meglio del meglio di quel periodo lì Wonder Bullets 1 altra storia incredibile altra run incredibile della vertigo scritta da Zarella e disegnata benissimo da Eduardo Risso che fa un lavoro eccezionale nel rappresentare le atmosfere che vanno dal thriller ma anche al noir della storia anche qui una storia che parla soprattutto di vendetta quindi una storia anche che che non si risparmia con la violenza quando è necessario trattarla scritta benissimo ad Azzarello che vabbè Azzarello è un maestro di questo sono già usciti due volumi l'edizione è l'edizione quella come è che la chiamano tipo evergreen cioè è tipo deluxe un po' più spessa perché è un pochino più grossa infatti costava 32 euro inizialmente presa scontata a 33 ragazzi secondo me è veramente da non far solo scappare perché è uno di quei fumetti che hanno fatto il successo dell'etichetta torniamo alle tutine con una storia che in realtà di tutina a parte l'aspetto dei personaggi ha ben poco ovvero crisi di identità di Brad Meltzer anche di questo ho parlato diverse volte quindi magari non mi soffermo più di tanto crisi di identità ragazzi è un'opera scritta da un non un autore di fumetti perché Brad Meltzer quando gli venne data la possibilità di scrivere crisi di identità non aveva mai scritto un fumetto era un romanziere e si vede molto anche questo nell'impostazione narrativa della storia con i vari colpi di scena piazzati in maniera molto appunto da romanzo ecco da romanzo giallo all'interno dell'opera ma è un'opera anche che non fa della sua storia il suo cavallo di battaglia ma dei personaggi riesce a caratterizzare dei personaggi iconici dei personaggi che hanno avuto già tutta una storia alle loro spalle in una maniera completamente originale e soprattutto modificando davvero lo status quo delle cose perché come sapete benissimo molte volte io mi lamento di come negli eventi supereroistici sembra che succedi chissà che ma in realtà non cambia nulla qua diciamo per quello che succede che non è mai forzato anzi è veramente ben costruito cambia lo status quo soprattutto per alcuni personaggi e quindi se volete leggere una storia della Justice League che però sia facilmente apprezzabile anche da chi magari conosce soltanto i personaggi e non tutte le varie sottodrame che ci sono state negli anni quindi identità perfetta andiamo avanti ecco qua non fate caso alla copertina di quello che state per vedere ragazzi perché la copertina fa cacare fa ampiamente cacare la copertina perché l'hanno fatta quando è uscita la serie televisiva e quindi dovevano necessariamente spammarla però la storia è una storia è una storia scritta da Greg Rucca e disegnata da J.H. Williams The Third è meravigliosa è davvero meravigliosa ragazzi perché non solo è una storia che parla di un personaggio che fa parte sì della Bat Family ma completamente diverso da tutti gli altri componenti della Bat Family ma oltre a questo ragazzi è disegnata da quello che probabilmente uno dei migliori autori per quanto riguarda la costruzione delle tavole di sempre ci sono ci sono delle scelte artistiche delle scelte proprio di ingegneria del disegno che fa Williams The Third che sono incredibili cioè voi quando aprite la pagina e vedete certe cose dite ma come cazzo l'ha pensata e soprattutto poi come l'ha realizzata una roba del genere quindi non fate caso alla copertina magari apritelo subito non vi soffermate sulla copertina e leggetevi una bellissima storia non ho consigliato Sandman è vero non ho incluso Sandman nei consigli però potevo privarmi di consigliarvi Neil Gaiman assolutamente no con quella che è stata poi effettivamente la prima storia americana di Neil Gaiman ovvero Black Orchid scritta da lui e disegnata da Dave McKean qui diciamo è quello che fa un lavoro che poi farà successivamente con lo stesso personaggio di Sandman ovvero prendere un personaggio degli anni 30 e 40 Black Orchid che era un personaggio una supereroina ormai dimenticata dalla storia e darle nuova vita darle nuova vita ma in che modo cambiandola trasformandola modernizzandola Lanterna Verde Rinascita ecco questa forse tra le cose che vi ho consigliato sì insieme a quella che vi consiglierò dopo è la più classica a livello supereroistico perché è scritta da quella l'autore che negli anni 2000 ha scritto secondo me meglio i supereroi che è Geoff Jones e questo è l'inizio della sua esperienza su Lanterna Verde che cambierà per sempre il personaggio e lo renderà uno dei più amati dai tempi di Freccia Verde Lanterna Verde e e questo è anche un ottimo starting point ragazzi perché viene spiegato che fine aveva fatto al Jordan e gli viene data una nuova vita e quindi da qui poi in teoria bisognerebbe continuare con il ciclo di Geoff Jones peccato che però la panina abbia deciso di stampare in formato brossurato tops e andiamo all'ultimo consiglio della DC Comics e ovviamente ragazzi come non consigliare qualcosa dell'azzurrone impossibile non consigliare qualcosa dell'azzurrone ovviamente ho deciso di fare qualcosa che magari non viene consigliato spesso ovvero Kryptonite di Darwin Cook è disegnato da Tim Sale Tim Sale per chi non lo sapesse magari lo conosce da altre opere quali Superman stagioni oppure il ciclo che ha fatto insieme a Jeff Lab su Batman ah l'Umi Vittorio Scuro eccetera Kryptonite invece ragazzi è una storia diversa rispetto a tutte le altre che vi ho nominato perché è una storia Darwin Cook è un grande stimatore delle storie classiche del concetto di supereroe classico quindi cosa fa prende il Superman anni 50 e lo gli aggiunge diciamo tutta quella come possiamo dire tutta quella cruda realtà che è stata aggiunta negli anni non al personaggio in generale nel fumetto supereroistico infatti vediamo un Superman in cui si trova davvero a dover affrontare in maniera come in maniera molto umana il suo punto debole ma anche il modo in cui si interagisce con altri personaggi soprattutto la stessa Lois Lane non è in maniera soltanto romantica che per carità non è che è un male però lo fa davvero in maniera umana anche Lois Lane non è soltanto la principessa in pericolo è anche una donna forte una donna indipendente che comunque però ama davvero Kal-El e Clark Kent sia come supereroe ma anche come essere umano e quindi è una storia che saprà coinvolgervi da 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 ogni punto di vista poi chiaramente ragazzi è disegnato da Tim Sale quindi se vi è piaciuto il tratto di Superman Stagioni anche qui impazzirete perché è meraviglioso Tim Sale anche qui poi fa una delle Lois Lane più belle di sempre però questo è un mio personalissimo parere iniziamo subito cofanetti iniziamo con i cofanetti ragazzi ve lo dico fin da subito con la Disney ho avuto parecchie difficoltà perché c'è poca roba scontata e quindi diciamo ho sopperito con aggiungendo altri titoli aggiungendo titoli dei panini comics ok ok andiamo avanti cofanetto dei tre volumi i tre volumi i tre volumi di Turconi e Radice ora i tre volumi sono Ducks on the road l'isola del tesoro e orgoglio e pregiudizio come potete intuire dai titoli sono storie che vanno a rendere omaggio ai classici della letteratura on the road di Kerouac l'isola del tesoro di Stevenson e orgoglio e pregiudizio di Jane Austen e quindi a livello di storia chiaramente è quello è un omaggio a quelle storie che fanno parte ormai cioè ormai fanno parte della letteratura mondiale ovviamente disneyzzate e poi considerate anche che l'edizione è un'edizione molto molto curata il cofanetto è bellino i volumi sono volumi cartonati quindi comunque avrete delle edizioni molto belle di opere altrettanto altrettanto belle e cofanetto l'oceano perduto è la terra degli antichi allora questo cofanetto ragazzi queste opere avevano avuto soprattutto l'oceano perduto non ebbe molta fortuna quando uscì qua in Italia perché l'edizione era effettivamente un'edizione molto economica a livello di produzione la carta era troppo sottile i colori non risaltavano bene ed era un peccato perché massimo rispetto per Filippi ma le tavole ragazzi di l'oceano perduto e la terra degli antichi sono veramente meravigliose sono tavole che che ricordano molto il fumetto franco belga moderno se voi non so se vi è capitato di vedere qualche tavola di qualche fumetto francese lo stesso Spirou e Fantasio gli stessi Asterix Oblix sono diventati sempre più dettagliati si divertono molto gli autori francesi a dettagliare quanto più possibile le loro tavole anche dal punto di vista dei colori non soltanto proprio a livello di matite e poi chiaramente sono due avventure fantasy come veramente dovrebbe essere il fantasy cioè senza voler essere troppo magari come possiamo dire senza voler essere troppo crudi senza voler essere troppo realisti che so che sembra uno simono ma tant'è lo fanno è un fantasy bello puro poi con i personaggi Disney capite che risalta ancora di più qui onestamente vi consiglio la run credo ne avviate sentito parlare veramente da chiunque in qualsiasi modo questa è la nuova edizione l'edizione library deluxe quindi cartonata questa è la ristampa spero spero non ve ne freghi molto che sia una ristampa o meno ed è tutta la gestione di Don Rosa su Zio Paperone e Paperino che per quanto riguarda i fumetti Disney è la cosa più bella mai fatta poi ora su questo ho avuto un pochino di dubbi vi spiego perché allora questo qua è Paperinic New Adventures ora io non so quanti di voi siano informati sulla storia editoriale di Paperinic però Paperinic venne creato nel 96 e questa fu la sua prima testata P-K-N-A Paperinic New Adventures testata che andò avanti per diversi anni che ha avuto diverse edizioni ma non ha mai a meno a mia conoscenza non ha mai avuto un'edizione unica che raccogliesse tutto infatti questa edizione qui che vi sto consigliando è un'edizione da 80 pagine che raccoglie la primissima storia di Paperinic New Adventures ok primissima storia primissima storia quindi io ve la consiglio soltanto se volete leggere questo magari conoscete Paperinic di nome e vi chiedete ma qual è stata la prima storia di Paperinic da dove posso iniziare magari ecco magari potete iniziare da qui e poi scoprirvelo questa questo questo quest'altro P-K Potere e Potenza allora P-K e Potere e Potenza è l'inizio della nuova run di P-K del metà anni 10 2014 mi pare 2015 questo P-K per chi conosce la storia editoriale del personaggio si pone come sequel ideale di P-K al quadrato P-K2 ok perché in teoria c'è la terza serie di P-K che non mi ricordo come si chiama che però non è un sequel è un prequel quindi il vero seguito di P-K2 è P-K questo qua del 2014 Potere e Potenza che però diciamo che potete tranquillamente leggere almeno a mio modestissimo parere anche senza conoscere la vita editoriale del personaggio proprio perché era stato fatto era stato pensato per essere un nuovo punto di inizio per i lettori quindi sì è vero ci sono alcuni elementi che vengono da prima però potete godervelo tranquillamente anche in questo modo ora di questa nuova serie di P-K del 2014 esistono diversi cartonati Potere e Potenza è il primo quindi se volete iniziare da qualcosa Potere e Potenza secondo voi non consigliavo uno dei classici letteratura disegnato da Ceroni ma impossibile non consigliarlo volevo onestamente consigliarvi Dr. Ratkill Mr. Hyde però non è disponibile quindi ho detto vediamo cos'è disponibile di quella collana lì e ho visto che Dracula era disponibile meraviglioso ragazzi vi consiglio di sfogliarvelo perché se lo trovate che è meraviglioso le tavole di Ceroni sono incredibili e vabbè a livello narrativo ragazzi Dracula come ho fatto anche per il cofanetto iniziale sono classici della letteratura rivisti sotto la lente Disney ma non a livello di narrativo perché comunque è molto rispettoso ecco del prodotto originale a livello visivo e poi per concludere ragazzi una delle mie cose preferite della Disney tant'è che ve l'ho fatta vedere negli scorsi mesi mano a mano che mi arrivava Mickey Mouse Mystery Magazine il fumetto crime noir perfetto della Disney cioè se volete leggere qualcosa che abbia dell'atmosfera è un po' come anche Gotham Central di Rucca e Brubaker Mickey Mouse Mystery Magazine che potete recuperare o singolarmente così oppure però il cofanetto non lo so forse ancora devo uscire non lo so in teoria c'è il cofanetto che contiene anche un volume extra che non è necessario per la storia perché a parte che non c'è proprio una storia perché appunto sono singoli casi all'interno dei volumi però c'è questo cofanetto però non so se è ancora disponibile onestamente non ci ho fatto caso che contiene questo settimo volume ah sì ok perfetto è disponibile c'è sia il cofanetto vuoto con il settimo volume oppure il cofanetto pieno però non sono scontati l'unico problema è questo quindi in caso magari vi prendete il primo vi è scontato il primo volume se vi piace poi in caso vi prenderete anche il cofanetto vi sorprenderà il primo consiglio perché diciamo che ultimamente non ho riservato parole al miele a riguardo però il primo consiglio ragazzi è Ratman Saga io ho messo il cofanetto ma volendo potete recuperare anche il primo volume perché anche il primo volume proprio il primo questo qua è scontato allora dovrebbero essere se la memoria non mi inganna quattro cofanetti in totale e raccoglie sono volumi che raccolgono interamente la produzione di Ratman allora Ratman nonostante io ultimamente memi molto su Ortonani su come avesse detto no mai più Ratman continuo a scrivere Ratman ma comprensibile rimane uno dei fumetti italiani più importanti è inutile negarlo ragazzi rimane uno dei fumetti italiani più importanti della più importanti e più conosciuti della della produzione nostrana e nasce nasce come opera parodistica non soltanto per quanto riguarda il fumetto supereroistico di cui lo stesso Ortolani è un avido lettore e conoscitore ma anche della cultura pop a 360 gradi e mano a mano che le storie proseguono Ortolani è riuscito a dare un'identità al suo personaggio che andava oltre l'essere una parodia e diventare sempre più profondo quindi va bene il meme va bene tutto però se non avete mai letto Ratman ragazzi fate in favore ora io ho messo il cofanetto che ripeto 64 euro 4 volumi cartonati secondo me ci sta assolutamente ma voglia se ci sta poi il cofanetto è anche uno di quelli buoni non è cofanetto di cartoncino però se magari non ve la sentite di fare sta spesa ci sono anche i volumi singoli che tanto sono scontati forse addirittura tutti non mi dico no forse tutti no fino al 12 sì fino al 12esimo tutti sì pezzo 12 in totale e quindi volendo potete prendere anche quelli singoli di questo ragazzi ve ne ho parlato tantissimo The Goon ve ne ho parlato tantissimo l'opera pulp fumettistica per eccellenza c'è un'opera che mischia il black humor l'horror il noir l'azione anche tutto tutto disegnato in una maniera eccezionale da Eric Powell che tra l'altro lo scrive anche e questa chiaramente questa edizione deluxe raccoglie anche i primissimi esperimenti di The Goon perché anche qui pochi magari conoscono la storia editoriale del prodotto ma prima di essere acquistato nel 2003 mi pare dalla Dark Horse The Goon era stato prodotto inizialmente in maniera era stato autoprodotto dallo stesso Eric Powell quindi era tipo solo in bianco e nero e ovviamente non c'era una vera e propria trama perché non sapeva mai quando poteva smettere di produrre eccetera poi è stato acquistato da un secondo da un primo editore che però lo portò avanti soltanto di un paio di numeri che non erano solo bianco e nero ma erano tipo non inchiostati come si dice tipo in scala di grigi ecco e poi successivamente la Dark Horse lo comprò e fece lo fece continuare per diverso tempo rendendolo uno dei fumetti più amati nel panorama fumettistico americano ecco questa edizione qua la The Loose la Deluxe soprattutto nel primo volume raccoglie i primissimi esperimenti di Eric Powell e poi l'inizio effettivo della run su Dark Horse poi ne ho parlato prima di questo ragazzi ne parlo volentieri ancora Criminal Deluxe di Ed Brubaker e Sean Phillips questo ragazzi è probabilmente il miglior fumetto noir di sempre i migliori fumetti che non è uno solo i migliori fumetti noir di sé anche meglio di Black Sad sono col cuore in mano vi dico che è anche meglio di Black Sad e ha fatto un lavoro Brubaker incredibile perché non soltanto non soltanto riesce a creare delle atmosfere ovviamente coadiuvato Sean Phillips in maniera eccelsa ma riesce anche a fare perché generalmente magari delle storie appunto come Black Sad delle storie di noir crime difficilmente o sono lunghe e hanno anche una trama lineare o comunque un war building molto approfondito Brubaker invece riesce proprio a fare questo riesce a rendere vivo il suo mondo i suoi personaggi creando sempre storie interconnesse e tra l'altro creando anche diversi spin off che sono raccolti poi in altri volumi però se volete iniziare da qualche parte a leggere questo universo che ripeto poi si estende anche in altre opere Criminal l'unica cosa ragazzi è che per ora le opere che in teoria sarebbero incluse nel terzo deluxe da noi non ci sono mentre le opere che sono incluse nel quarto deluxe americano ci sono ma sono singole cartonate ma singole quindi innanzitutto compratevi questo poi più avanti si pensa e poi c'è anche palp sì sì assolutamente c'è anche palp andiamo avanti non stavo trovando nulla di franco belga da consigliarvi mi è venuto in soccorso il buon Jodorowsky The Showman Killer questo è l'omnibus disegnato da Fructus Nicolas Fructus allora questa è una storia di fantascienza molto classica se conoscete la fantascienza del fumetto franco belga ma magari se non avete idea di che cosa sia potrà sorprendervi perché è una fantascienza molto il tipo di fantascienza soprattutto anche di Jodorowsky è una fantascienza molto come possiamo dire molto complessa perché riesce a costruire un mondo futuristico parecchio stratificato quindi complesso in quel senso ma anche molto molto matura il personaggio infatti è un killer creato geneticamente da un genetista pazzo che voleva creare appunto il killer perfetto e lo ottiene appunto questo qua è un killer che non prova alcun tipo di di sentimento che generalmente porta sempre a compimento ciò mi chiede i suoi lavori però diciamo che poi succede qualcosina e un attimo si intacca qualcosa e ovviamente non dico troppo ragazzi non mi va di spoilerarvi la trama vi dico soltanto che è una fantastica opera di fantascienza disegnata meravigliosamente dipinta meravigliosamente da fructus che segue diciamo la buona dinastia di disegnatori fantascientifici del fumetto franco belga e quindi in quest'omnibus non costa neanche tanto potete godervelo anche nelle tavole belle grosse Spawn Deluxe ragazzi Spawn Deluxe questa è l'edizione la nuova edizione di Spawn raccolta in non si sa quanti volumi voci di corridoio dicevano 10 ma non si sa raccoglie praticamente tutto Spawn si ci sono i soliti problemi con i diritti di Angela non me ne fotte un cazzo ragazzi si vuole leggere Spawn si deve prendere questo non rompete la minchia con i diritti se mai un giorno risolveranno la cosa dei diritti verrà ristampato finché non viene risolto bisogna accontentarsi perché la gente non può prendersi gli spillati per leggere quei 2-3 volumi dove cazzo c'è Angela andiamo avanti Spawn Deluxe quindi raccoglie il primo volume le primissime storie di Spawn che sono vabbè ma diciamo i primi 100 numeri di Spawn sono i più belli ma soprattutto le primissime storie sono le migliori perché vedono non soltanto Todd McFarlane ai testi ma anche autori come Alan Moore Neil Gaiman Frank Miller tantissimi autori che in quel periodo diciamo erano un filino famosi che furbamente Todd McFarlane si è chiamato per fargli scrivere un paio di storie che è questione Francia è una storia lunga di diritti Todd che ha fatto il pezzo di merda vabbè comunque andiamo avanti andiamo avanti non credo nessuno al mondo possa dare ragione a Todd McFarlane per quanto riguarda la discussione su Spawn però preferite non adentrarmi su questi Lidi è uno dei fumetti più importanti negli anni 90 ragazzi quindi anche uno dei più iconici quindi assolutamente consigliato poi Crosshead di Gartenis onestamente ho avuto un pochino di dubbi se metterlo o meno però ho detto dai meglio questo che The Boys almeno questo un minimo di divertimento te lo dà The Boys è soltanto merda scherzo e Crosshead ragazzi è un avete presente The Walking Dead ok pensate un The Walking Dead ancora più estremo Crosshead perché diciamo che Ennis di fare tutti i discorsi di Kirkman mi ne fregava tantissimo voleva fare una storia violenta perché voleva fare una storia di critica alla società iper violenta americana infatti in Crosshead pur essendo un fumetto post-apocalittico in cui l'apocalisse viene generata da un virus il virus non è che trasforma le persone in zombie ma trasforma le persone in pazzi sadici in pratica è come una sorta di switch che si spegne e toglie qualsiasi tipo di freno inibitorio alle persone quindi tipo io che mi sono toglie no scherzo e quindi questo ok quindi se volete leggere un fumetto post-apocalittico in cui si c'è un minimo di critica sociale e a differenza magari di The Boys c'è un minimo di critica sociale quindi è un guard tennis che non è completamente lasciato a se stesso ma viene un attimino attenzionato Crosshead Bowie di Mike Allred allora ragazzi questo è il secondo volume di Allred il consiglio è una storia meravigliosa una biografia meravigliosa su Bowie che soprattutto si concentra sul periodo di Ziggy Stardust quindi il periodo del glam e secondo me è una scelta geniale di Mike Allred sia perché è il periodo più artisticamente ambientativo di Bowie ma anche perché è quello che più si abbina al suo stile molto psichedelico e quindi avrete sia una storia chiaramente biografica che non si risparmia nei dettagli sia per quanto riguarda la vita pubblica ma anche la vita privata di Bowie anche i suoi legami con Bolan il frontman dei T-Rex per il discorso appunto paternità legleme eccetera eccetera ma anche che riesce a colpire visivamente il lettore proprio per dei guizzi artistici presenti all'interno dell'opera vabbè Pablito per me insieme al suo ciclo sui blazer è la migliore cosa che ha mai fatto Ennis e andiamo avanti eccolo qui l'unico brossurato l'unico brossurato che consiglio è questo anche perché probabilmente non esisterà mai una versione cartonata in Italia ovvero Hip Hop Family 3 ciao tortello di zucca Hip Hop Family 3 ragazzi è il primo fumetto commerciale si commerciale di Ed Piscor che prima era un autore underground faceva soprattutto roba indipendente questo è il primo lavoro commerciale ed è quello che chiaramente l'ha fatto esplodere l'ha fatto amare alla follia dal pubblico dal mercato giappone si giapponese vabbè americano è un'opera che va a coprire tutta la storia dell'Hip Hop dalla genesi dalle radici degli anni 70-60 fino alla genesi degli anni 80 fino ai giorni nostri cioè giorni quando scrisse Episcor e e lo fa in uno stile meraviglioso perché vedete tutto come se fosse appunto uno di quei vecchi poster cioè non viene fatto su carta bianca viene fatto su questa carta molto come se fosse appunto vintage rovinata come i vecchi poster che venivano autoprodotti proprio per farsi pubblicità nei vari per le varie serate di giochi eccetera ed è una storia che anche culturalmente viene affrontata benissimo quindi se siete appassionati di pop e magari volete leggere un fumetto che riesca a regalarvi le stesse vibes della cultura hip hop perfetto è perfetto hip hop family tree sono quattro volumi ragazzi che dovrebbero essere tutti e quattro disponibili sì eccoli qua i quattro volumi quindi ma poi ragazzi guardate illustrazioni veramente fuori di testa di disco fuori di testa certo che panini due paginette di anteprima dei prodotti potrebbe mettere su sito eh lo so lo so subito e quindi aspettate scusate metto la canzoncina di asd poi abbiamo ragazzi io ci ho provato a mettere poche cose di alan moore ma è tosta allora provvidenza ragazzi allora io qua ho fatto una scelta un po' particolare perché avrei dovuto mettere il neonomicon però forse il neonomicon è un po' tosto da leggere perché è molto molto pesante come lettura magari potrebbe potrebbe o spingervi subito alla lettura di provvidenza di cui è il è il prequel anche se è uscito prima il sequel scusatemi anche se è uscito prima però potrebbe anche limitarvi alla lettura se magari siete facilmente impressionati provvidenza comunque ragazzi è l'atto d'amore di moore per l'universo narrativo di lovecraft come ho detto più volte fa un lavoro di ricerca e analisi che neanche i critici letterari riescono a fare secondo me su lovecraft perché non solo riesce ad analizzare l'uomo e l'autore ma riesce anche a replicarlo in una maniera incredibile non è l'omnibus che deve uscire black è l'absoluto e non sta tutto nell'absoluto ci tengo a precisarlo perché a differenza del cofanetto non è contenuto il volume questo qua eccolo qua dreadful beauty l'arte di providence che è quello fatto da che raccoglie appunto tavole e studi di burrows jason burrows quindi non è tutto e quindi ragazzi se vi piace l'horror se vi piace un certo tipo di horror cosmico come quello del lovecraftiano che che vi sappia trasportare anche senza bisogno di come possiamo dire di jumpscare o altro ma anche soltanto con le atmosfere con le descrizioni con i dialoghi ma anche le tavole ragazzi ci sono alcune tavole che non hanno dialoghi e vi fanno cacare sotto ma perché vi fanno dire oddio che cazzo sta succedendo aiuto cioè vi fanno proprio entrare in quelle atmosfere così cupe così esoteriche di dell'universo lovecraftiano andiamo avanti questo è proprio l'estremo opposto ragazzi perché questo è un è un teen drama un teen drama è Deadly Class ma senza alcun tipo di senza un tipo di senza nessun tipo di critica negativa è un bellissimo teen drama Deadly Class perché parla di adolescenti quindi del loro percorso di crescita quindi i soliti argomenti dei teen drama come l'avrete visti 600 volte però lo fa utilizzando una piccola una piccola no? intuizione perché non far fare a questi ragazzi i sicari e soprattutto perché non fargli seguire non fargli partecipare a fargli frequentare scusate una scuola di sicari quindi in questo modo va a prendere tutti gli elementi del teen drama ovvero l'ambiente scolastico le relazioni tra studenti i primi amori i primi litigi le lezioni i professori tutte quelle cose però nel mezzo ci mette anche qualche morto ammazzato perché chiaramente è una scuola di sicari ragazzi qualcuno morto aspettatevelo ovviamente nel mezzo poi ci butta anche il suo infinito ricremender ci butta il suo infinito amore per il post-punk e la new wave west craig tra l'altro in alcune tavole in cui c'è l'utilizzo di droghe riesce a adattare il suo stile già molto pop molto colorato molto estremo riesce ad adattarlo anche a situazioni più psichedeliche infatti c'è tutto il trip a las vegas che è meraviglioso e quindi ragazzi se vi piace se conoscete già ricremender easy se però vi piace anche magari un certo tipo di setting narrativo in questo caso il teen drama quindi quello con personaggi adolescenti quindi anche possono avere una sorta di percorso che già vi ha interessato nel vostro passato quindi anche per un fattore nostalgico perché lo stesso ricremendere all'interno della storia mette tantissimi elementi che hanno fatto parte della sua giovinezza come scrive nelle varie postfazioni dei volumi acquisto assolutamente da fare questo io lo consiglio perché comunque lo amo lo amo tantissimo il problema è che diciamo che la la Panini ma anche lo stesso Peterson ci sta facendo un pochino penare per vedere sempre nuovi elementi della sua opera ovvero la guardia dei topi ragazzi la guardia dei topi è probabilmente uno dei fantasy più belli che ho letto a fumetti lo dico tranquillamente uno dei fantasy più belli perché è un fantasy veramente high fantasy cioè un high fantasy come 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 ti aspetti che sia un fantasy epico ok solo che i personaggi sono esatto i personaggi sono dei topi e questo chiaramente li pone a ulteriori anche pericoli perché vivono in un ambiente in cui sono alla fine della catena alimentare quindi devono affrontare i loro viaggi pur essendo consci appunto del fatto che potrebbero essere predati dal momento all'altro poi ovviamente c'è anche un lavoro che nei vari volumi va ad ampliare di world building meraviglioso è uscito anche un pre quelle che è la faccia nera la faccia nera no sì non mi ricordo oddio era la faccia nera che si chiamava non mi ricordo beh comunque e poi ci sono le stesse tavole di Peterson che scrive e disegna che sono un piacere per gli occhi ragazzi io ancora mi ricordo ho stampato vivido negli occhi la scena dei topini tra i rovi con la volpe che cerca di prenderli cioè penso sia una delle cose più belle che ho visto scura e nera grazie uno dei delle delle tavole più belle che ho mai visto cioè meravigliosa quella sequenza lì e il problema appunto è che un attimino si aspetta quanti volumi sono ho perso il conto perché sono usciti c'è la guardia dei topi che sono autunno inverno poi ci sono le leggende la scura e nera un casino un casino ci sono anche storie extra come puoi vedere quindi è un po' un casino poi da recuperare tutto andiamo avanti per chiudere ragazzi un volume è uscito quest'anno è giusto no? sì febbraio 2022 di Tinian IV e Simons ovvero The Department of Truth è un'opera molto adatta al periodo in cui viviamo perché cosa fa intelligentemente Tinian IV prende prende tutte le varie teorie del complotto mai pensate e le collega le collega cioè da una da una razionalizza ecco diciamo così razionalizza chiaramente in maniera fantascientifica razionalizza tutte le teorie del complotto e quindi ti crea questa storia che mischia chiaramente il thriller cospirativo ma anche la fantascienza con una storia che vi giuro ragazzi il primo volume non mi capitava da tempo ma il primo volume me lo so divorato cioè veramente riesce a incentivare la lettura con elementi di trame elementi di lore ma anche con un buonissimo un buonissimo pace narrativo che il primo volume ve lo ve lo divorate ve lo divorate e quindi tra le letture nuove degli ultimi anni che ho fatto sicuramente una delle migliori tini un quarto tra l'altro si conferma come uno dei migliori scrittori della nuova della nuova generazione e io con questo ragazzi vado a chiudere gli acquisti della panini comics però devi mettere un sottofondo musicale avete visto ho l'oro in 23 un sottofondo un sottofondo Grazie a tutti.